ciao amici oggi andiamo a recensire un altro prodotto di auki questa volta si tratta del portable wireless stereo audio receiver modello brc9 questa è la scatola che vedete ovviamente io adesso da un attimo ricomposta ma facciamo un po l'unboxing abbiamo quindi il dispositivo poi se riesco a togliere questa parte qua questo non ci interessa abbiamo all'interno di questa scatola innanzitutto il cartaceo per registrare il prodotto questo è sostanzialmente un doppio jack maschio per che ci permette di inserirlo all'interno del degli impianti audio con cui andiamo a interagire poi abbiamo il manuale delle istruzioni udite in italiano anche una cosa che mi è piaciuto molto dei prodotti di auki è che nelle istruzioni che bene o male sono sempre libretti non troppo economici nel senso che sono curati e e hanno l'italiano cosa che ormai non do per scontato più in da nessuna parte abbiamo il cavetto micro usb e un cavo di prolunga con il jack da 3.5 mm questo è il prodotto abbiamo come vedete due pulsanti o meglio tre pulsanti sulla parte frontale che quello centrale è quello che ci permette di prendere le chiamate sì perché avete capito bene anche un microfono che vedete qua sotto ci permette quindi di prendere le chiamate in in arrivo e poi abbiamo questi due pulsanti che sostanzialmente ci permettono sono doppia funzione ci permette di interagire con il volume della del telefono oppure ci permette di cambiare brano cosa ci permette di fare questo dispositivo sostanzialmente ci permette di far diventare bluetooth qualsiasi impianto audio che non lo è basta che abbia un aux in con il jack da 3.5 mm funziona discretamente bene ha una batteria integrata da 500 mAh che ha un tempo di ricarica intorno alle due ore per un'autonomia che siamo intorno alle 6 ore o 10 giorni in stand by funziona discretamente bene per quanto riguarda la la trasmissione della musica nulla da indicare di particolare un po meno per quanto riguarda le funzioni di telefono qua vedete come detto che ha il microfono integrato e diciamo che non è il massimo ecco specialmente se lo si utilizza in macchina lontano l'audio fa fatica a prendere la nostra voce bisogna averlo veramente vicino quando intendo vicino intendo a non so 5 10 cm di distanza quella distanza potrebbe anche andar bene oppure potreste provare a posizionarlo intorno al volante da qualche parte magari sfruttando il cavo prolunga e vedere se riesce a captare qualcosa qualcosa sicuramente capterà bisognerà magari parlare un po' ad alta voce però diciamo non sarà un audio cristallino ecco però per quanto riguarda la musica se quello che mi interessa è poter trasmettere la musica all'impianto funziona veramente bene si accende semplicemente tenendolo premuto una pressione un po' prolungata devo dire intorno ai 7 secondi e si il pairing la sincronizzazione è abbastanza veloce anche per il pairing basta tenerlo premuto così come ho fatto adesso entra automaticamente in modalità pairing non ci sono codici da inserire però sul manuale di istruzioni indicano lo 0000 se non sbaglio vediamo adesso non lo trovo però è indicato mi ricordo che indicato qua vedete che abbiamo il micro usb per la ricarica ecco questo è uno dei punti a sfavore diciamo di questo dispositivo perché ha una buona autonomia perché non è poca però non è non è abbastanza secondo me per i viaggi prolungati e il punto debolo qual è che non può funzionare nel momento in cui io lo metto in ricarica se io inserisco il micro usb per la ricarica smette di essere sincronizzato col telefono e semplicemente inizia a caricarsi un altro possibile utilizzo che ho trovato pensandoci è con delle cuffie normalissime col filo semplicemente posso fare diventare bluetooth e in questo caso funziona veramente bene e funzionerebbe molto bene anche per prendere le telefonate ho pensato ad esempio a una passeggiata in montagna in cui sto ascoltando la mia musica con il telefono nello zaino e semplicemente ho questo magari in mano o in una taschetta sulla sulla spalletta dello zaino e con questo posso tranquillamente giostrarmi la musica e rispondere o prendere le chiamate quindi da questo punto di vista abbiamo anche una diversa una discreta una discreta funzionalità per questo dispositivo perché come vedete è anche molto compatto e funziona bene ecco non ho niente da dirgli se non quello delle delle telefonate che ovviamente per un dispositivo del genere che ha un microfono così non si può pretendere la luna ecco però per quanto riguarda la trasmissione della musica 100 per cento valido a un prezzo tra l'altro molto economico siamo intorno ai 20 euro e quindi molto buono questo prodotto di auki ricordo auki modello brc 9 lo trovate in vendita su amazon e trovate ovviamente anche la recensione sul sulle pagine del mio blog ciao ciao ciao